Questo è il cuore della nostra produzione. Ciao a tutti, sono Matteo Cavazzoni della pasticceria Cavazzoni e mi trovo a parte. Ho cominciato con la mia prima attività nel 98. Per quello che riguarda la nostra produzione spazia in tutto quello che è la pasticceria, tutto il mondo delle colazioni e dei grandi lievitati in stagione, Pasqua, Natale, così, per poi andare sulle torte. Da sempre stiamo utilizzando i prodotti della Bongard Ecmar e chiaramente loro sono cresciuti con noi. Prima avevamo un forno rotor 60x40 e adesso per dire abbiamo uno 60x80 con più capacità di cottura, rotor comunque noi ci troviamo benissimo, non ha mai sbagliato un colpo e poi anche lì con la forza di ferma lievito, anche lì siamo partiti da una stufa con due carrelli sempre 60x80 e adesso ne abbiamo 5. Tutto questo grazie anche alla consulenza che tra l'altro è diventato col tempo anche un caro amico di Thomas che comunque è sempre stato presente, ci ha sempre risolto tutti i problemi e ci ha sempre aiutato a crescere. Io sono qua in Paceceria con il mio fratello socio Fabio, se ci volete venire a trovare siamo in via Enrico Mattei qui a Fano, provincia di Pesaro, vi aspetto e anche sui social abbiamo diverse pagine che è Paceceria Cavazzoni e Matteo Cavazzoni su Facebook, sia Paceceria Cavazzoni che Matteo Cavazzoni anche su Instagram.